Il direttore sanitario dell'ASP di Catania, Antonino Rapisarda, ha ricevuto questa mattina presso la sede dell'azienda sanitaria il sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi, accompagnato dall'assessore comunale alla salute, Maria Enrichetta Guardina, e il presidente del comitato di Catania e della Croce Rossa italiana, Stefano Principato, al centro dell'incontro la richiesta del primo cittadino di Randazzo di attivare per la comunità randazzese un canale di distribuzione domiciliare dei farmaci e dei presidi dispensati dalla farmacia ospedaliera di Bronte. Grazie a una convenzione fra il comune e il comitato di Catania e della Croce Rossa, ai cittadini randazzesi aventi diritto sarebbe garantita questa opportunità senza la necessità di recarsi alla farmacia dell'ospedale di Bronte per ritirare i farmaci e i presidi in distribuzione diretta. Il progetto è stato illustrato dal sindaco Sgroi nel corso della riunione alla quale sono intervenuti il direttore del Dipartimento del Farmaco, Maria Anna Dagata, il direttore del distretto sanitario di Bronte, Antonio Salanitri, il direttore medico dell'ospedale di Bronte, Salvatore Pillera. Nel corso della riunione si è discusso anche del miglioramento degli standard di accoglienza della farmacia ospedaliera di Bronte, degli interventi già intrapresi e della futura collocazione del servizio che nella nuova sede al piano terra del presidio godrà di migliori livelli logistici e opportunità organizzative.